Procediamo. Quest'anno tra i 50 dischi che sono stati visionati dalla giuria per questa ottava edizione del premio c'erano due che avevano un riferimento specifico all'area della musica tradizionale, un disco di un gruppo a tenore nurese e poi un disco per certi versi curioso e coraggioso nello stesso tempo, allestito da tre musicisti di provenienza diversa da Orgosolo, Sarule e Dorgali, si sono messi insieme e si chiamano Sonos in Cumpanzia, hanno fatto un disco che si chiama Mai Solo ed è veramente un invito incredibile al ballo. L'inviterei senz'altro qui sul palco. Sono Franco Corrias da Orgosolo, Gianni Sagheiddu da Dorgali e Pietro Tanda da Sarule. Non so se io posso disturbare un attimo Pietro, mentre tu continua comunque ad allestire il tuo set. Volevo soltanto chiederti come è nata l'idea di mettervi insieme e allestire questo disco che recupera balli, tra l'altro balli propri della vostra area di provenienza. Allora innanzitutto buonasera a tutti, non vi vedo perché ho le luci puntate però ho visto insomma qua a fianco che siete veramente tanti. Allora il progetto è nato insieme al gruppo praticamente, nel 2019 ci siamo formati come tre amici che suonano e hanno voglia di fare festa e quindi contemporaneamente con il progetto Sono su in compazia è nato il disco che all'inizio non aveva un titolo ben definito, poi abbiamo ricevuto una poesia da un carissimo amico dal titolo Maisolu, poi abbiamo attraversato il periodo della pandemia insomma che tutti conosciamo e il titolo era ovviamente giustificato anche proprio per il periodo che abbiamo vissuto nel senso che non bisogna sentirsi soli e noi cerchiamo comunque di fare la nostra musica per tenere compagnia alla gente e ne abbiamo proprio bisogno, ne abbiamo avuto bisogno in questo periodo. E noi vi ringraziamo per darci questa possibilità anche stasera a Olbia. Gli strumenti come avete sono da una parte organetto, la chitarra, mentre Franco Corrias ha il suo set di armoni che allora io vi lascio in compagnia di Sonos in Companzia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Diego, vieni Diego. Prossimo può essere un auspicio, un augurio. Ecco qua, Diego Pani da Sant'Ulusurgio. Non è mai quel nome, Giacomo? Abbiamo contatti da qualche decennio, quindi inevitabilmente si intruffola anche quando non è il caso. Inviterei anche Maria intanto, che poi dovrà consegnare il premio. Allora, Diego, ti chiedo anche a te così una valutazione complessiva che hai ricavato dall'ascolto di questi dischi e nello specifico il progetto che hanno messo in piedi questi musicisti. Franco Corriere, tra l'altro, fa parte del tenore murales di Orgo Osolo. Sì, allora, io ho avuto il piacere di ascoltare questi dischi insieme a Marco Mulas, il direttore tecnico-scientifico di Israe, io faccio le sue vici, oggi mi occupo appunto di musica all'interno dell'istituto e con loro lavoriamo insieme all'archivio Mario Cervo. Ho avuto il piacere di ascoltare questi dischi in cui ho trovato un universo musicale e multiforme, come spesso la Sardegna regala, davvero diverse espressioni relative a musiche anche diametralmente apposte che in un certo senso dialogano. Quello di Sonos in Companzia è appunto Sonos de Companzia, cioè suoni di compagnia. Come hai detto tu bene, si parte dal ballo ed è proprio la forza di questo disco, cioè restituisce quel senso di comunità che solo il ballo ha all'interno di tanti paesi della Sardegna. Penso che sia anche molto importante in una situazione come questa, di ripartenza, dove le persone possono riniziare a ballare e dove appunto possono trovarsi in tante comunità della nostra bellissima isola accompagnate da dei suoni che sono tradizionali ma allo stesso tempo contemporanei che prendono ispirazione da tre paesi diversi, tre importanti paesi del centro Sardegna ma anche da suggestioni legate alla popular music, quindi al pop e magari al rock, ad aperture armoniche come abbiamo sentito nel ballo di prima oppure a una percussione che aiuta ancora di più il battito e il passo dei ballerini forse come spesso accade. Certo, hai fatto bene a sottolineare questo recupero della comunità attraverso il ballo che arriva dopo due anni in cui siamo stati fortemente penalizzati da questo punto di vista. Allora, Maria sei qui? A te il compio di consegnare questo busto di donna. I premi sono dei busti di donna realizzati da Nels, ceramiche di Stefano Pani di Elmas e distribuiti attraverso Siennas di Olbia. Lo ritira a nome del gruppo Franco Corrias che è il più grande, il più maturo e quindi il più responsabile tra voi. Grazie, grazie molti. Allora, sono sin companzia, grazie anche a Diego Pani. Questo lo ricordiamo è il disco, poi cercatelo perché come sapete poi questi dischi hanno una distribuzione un po' così... Grazie a tutti.